Tempi difficili ma li trascorriamo in ottima compagnia, così il primo ministro ungherese Viktor Orban dal presidente russo Vladimir Putin. Un incontro molto criticato e osservato a livello internazionale, soprattutto perché è avvenuto nel bel mezzo di una crisi geopolitica che vede al centro la vicina Ucraina. Un Orban in missione di pace per dire noi sosteniamo una soluzione politica intendendo per noi i paesi UE. Putin ha discusso delle tensioni sull'Ucraina con il suo ospite ungherese in visita il giorno dopo che i diplomatici russi e statunitensi si sono scambiati aspre accuse al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I due non si vedevano dal 2019 a causa di eventi noti, ovvero il Covid. Tuttavia un incontro diretto, un dialogo diretto è molto meglio di una conversazione telefonica, ha detto Putin. La mia visita di oggi è in parte anche una missione di pace e vorrei assicurare che non un solo leader dell'Unione Europea, degli stati membri vorrebbero la guerra. Noi sosteniamo una soluzione politica, ha detto Orban. Poi Orban, evidentemente in vena di ricordi, ha stolineato a Putin che quasi tutti coloro che 13 anni fa, quando si incontrarono per la prima volta, erano colleghi alla guida dei paesi dell'UE, non sono più tali. Mentre lui, testuale, ad essere sincero, non ho intenzione di andarmene, le elezioni sono ad aprile, ha aggiunto. Putin gli ha risposto con un laconico, si lo so, e allora Orban, mi candiderò e vincerò, pertanto presumo ragionevole che collaboreremo per molti anni.